Capitolo terzo. Miseria della rigenerazione urbana. Prima di parlare di urbanistica milanese è bene chiarire un punto fondamentale. Milano è la città che più di ogni altra ha attraversato l'urbanistica come forma di pensiero politico sulla città e conseguentemente di governo pubblico del suo territorio. Con poche luminose eccezioni, per lo più remote, l'idea di urbanistica trasmessa dai professori del Politecnico, dai giornali espressioni del sistema immobiliare e dalle istituzioni pubbliche è sempre stata quella di un sapere pragmatico fondato sulla mediazione tra gli interessi di attori privati, tra quelli dei grandi e grandissimi players e quelli dei piccoli proprietari. Gli altri non sono stati nemmeno presi in considerazione. I grandi industriali, finanzieri e gli immobiliaristi hanno potuto fare e disfare palazzi, strade e quartieri con molta più libertà che altrove, ma non tanto grazie ai complessi sistemi di corruttela che pure hanno imperversato, quanto per un consenso diffuso nella borghesia anche più piccola e per un rigetto del vincolo che negli ambienti della sinistra più radicale veniva poi paradossalmente giustificato alimentato da principi antiburocratici di matrice anarchica, dalla banalizzazione di idee delusiane e focoltiane sulla società del controllo, dall'ambiguo realismo culasiano che fondava sapientemente la migliore estetica radical con le ragioni del capitale. Una frase ricorrente di Luigi Mazza, storico docente del Politecnico e a lungo consulente di Punta del Comune di Milano, riassumeva in modo egregio il concetto di urbanistica che domina da decenni nella città, meglio sopra il tavolo che sotto il tavolo. Amava ripetere riferendosi agli accordi con gli attori urbani che a suo parere, volente o non lente, qualsiasi amministratore della cosa pubblica era destinato comunque a prendere in merito ai grandi e piccoli progetti di trasformazione. Fu in nome della flessibilità e della sussidiarietà che nel 2000 Mazza curò per l'allora assessore allo sviluppo del territorio, Maurizio Lupi, area compagnia delle opere, il documento Ricostruire la Grande Milano per ridimensionare il potere decisionale dei piani urbanistici e lanciare una nuova era di grandi trasformazioni urbane. E a sua volta Lupi, divenuto poi parlamentare con Forza Italia, presentò una riforma mirata a estendere i principi della controrbanistica milanese e il resto d'Italia, in cui gli standard venivano aboliti e l'idea stessa di governo pubblico del territorio veniva cancellata. La legge Lupi non passò, ma gli stessi obiettivi sono stati poi raggiunti attraverso un mosaico di leggi e deroghe nazionali e locali. Il delfino di Maurizio Lupi, Carlo Masseroli, assessore all'urbanistica durante la giunta Moratti, portò a compimento questo processo con il PGT, il piano di governo del territorio, che ha sancito un indebolimento strutturale del Comune come istituzione dotata dalla facoltà di decidere gli assetti territoriali a lungo termine in nome dell'interesse generale, assegnandogli un ruolo di facilitatore dei processi di trasformazione proposti direttamente dai privati o comunque concepiti al loro servizio. Il PGT non è poi stato abolito né dalla giunta Pisapia né più compressibilmente dalle giunte Sala, il quale, come è noto, prima di assumere la perturbante maschera di politico di sinistra, era un uomo dalla Letizia Moratti. Una delle conseguenze più gravi, meno comprese di questa legittimazione, anzi esaltazione della partnership pubblico privato, è l'impossibilità di perseguire, anche nei rari momenti, nei pochi luoghi dove si manifesta la volontà politica di farlo, delle politiche di redistribuzione territoriale della ricchezza. La logica che presiede dalla localizzazione degli investimenti privati, infatti, è per necessità quella determinata dal profitto, che per sua natura tende a ricercare i margini più alti e il minore tasso di rischio, oltre a essere caratterizzata da una notevole dose di conformismo. Sembra banale, ma la retorica filantropica ha oscurato persino questi passaggi elementari. Il che, tradotto in termini spaziali, significa che se le istituzioni pubbliche si pongono di proprie iniziative in una posizione di minorità, limitando la propria autorevolezza nella gestione del territorio, gli investimenti ricadono nelle aree più ricche o in grado di diventare tali nel più breve lasso di tempo. Significa anche che i privati, dotati di una forza contrattuale molto più ampia rispetto a prima, realizzeranno i loro progetti a un costo minore, pagando meno oneri di urbanizzazione e disegnando i nuovi pezzi di città in funzione della massima valorizzazione dei propri immobili. E quindi il Comune riceverà meno fondi per garantire il funzionamento dei servizi pubblici, da manutenzione ordinaria e straordinaria di strada, case popolari, servizi e parchi. Sarà meno efficiente. E riuscirà a ottenere minori contropartite dai suoi partner privati in termini di costruzione di spazi pubblici a tutti gli effetti, e non a uso pubblico, di quello che viene chiamato housing sociale di spazi pubblici dedicati allo sport e alla cultura. Le zone ricche diventano sempre più esclusive ed escludenti, le loro scuole sempre più di elite, le loro piscine e preestre vengono date in gestione a società private, gli ambulatori e gli uffici anagrafe vengono alienati trasformandosi in uffici di lusso e centri commerciali, mentre, quale dove teoricamente regna la mixité, dove convivono abitanti di diverso stato sociale, rapidamente si omologano verso l'alto, diventano sempre meno ospitali e accessibili e meno abbienti fino a espellerli. Al preciso scopo di oscurare la presa di coscienza del nesso di causa effetto tra la collaborazione pubblico e privato e la città segregata, i votori di questo approccio ultraliberista hanno costruito fin dal principio uno storytelling di segno opposto, fondato sull'assioma, più pubblico con più privato, formulato anche come uso pubblico dell'interesse privato, da contrapporre alla politica del vincolo, alla camicia di forza del piano regolatore. Una legione di sinonimi dell'aggettivo flessibile, sempre accompagnata da moderno o innovativo, è servita a respingere la vecchia e rigida concezione fondata sulla separazione e la difesa degli spazi e degli interessi pubblici da quelli privati in una sfera di grigio ressalinista, di fallimentare mancanze di creatività. Perché ostacolare la metamorfosi, tagliare fuori intere zone dallo splendore dell'iniziativa privata quando per mezzo di semplici strumenti tecnici e negoziali è possibile progettare insieme di comun accordo nuovi pezzi di città che coniugano edifici di lusso e spazi pubblici spettacolari a costo zero in una logica win-win? Stando alla propaganda, il meccanismo è semplice. Per ogni grande area di trasformazione, metà della superficie viene destinata a parco pubblico. Il privato trasferisce le volumetrie, i diritti edificatori, dalle aree verdi ai suoi palazzi ed afforma lo spazio pubblico cedendone la proprietà al comune. Il costo zero è la vetta mistificatoria dell'intero discorso perché naturalmente mette in ombra il fatto che lo spazio pubblico creato dal privato, il parco, nella stragrande maggioranza dei casi, o la piazza, il museo e la piscina, non è regalato ma pagato con i soldi pubblici, cioè con gli oneri di urbanizzazione generati da ogni operazione immobiliare che, come si è detto, sono calcolati attraverso coefficienti sempre più svantaggiosi per il pubblico man mano che il sistema globale di concorrenza tra le città per attrarre i capitali diventa più selvaggio. Ma la chiave del successo di questo racconto sull'armonica cooperazione pubblico-privato è il greenwashing. A partire dal piano dei nove parchi per Milano, risalente al lontano 1995, un profluvio di progetti e mappe virate al verde, disseminate di boschi e giardini, si è riversato sulla città. Immagini in grado di fornire l'illusione di una visione, di un'effettiva capacità di plasmare un futuro urbano sostenibile sul piano ambientale, sociale ed economico, che nessuna istituzione pubblica da sola è più ritenuta in grado di esprimere. Nell'ora si è addirittura radicata l'idea perniciosa che non è più possibile realizzare parchi o spazi pubblici senza la cooperazione con il privato, cioè senza che qualche attore immobiliare possa costruire in cambio edifici. Un'idea clamorosamente smentita non solo dalla storia dei grandi parchi milanesi, che dal Sempione fino al Parco delle Cave sono nati per iniziativa pubblica o per effetto dalle battaglie ambientaliste, ma anche dalla già citata lotta combattuta e vinta dai berlinesi contro lo sviluppo immobiliare dell'ex aeroporto Tempelhof in nome di un parco senza condizioni. Quello che gli attivisti berlinesi hanno ben compreso e che invece continua misteriosamente a sfuggire alla percezione collettiva milanese è la plateale evidenza che questa costellazione, arcipelaghi, cinture e corridoi di parchi pubblici costruiti da privati sono sempre meno pubblici e anche meno parchi. Se i privati hanno accettato di buon grado di pagare gli oneri attraverso le edificazioni di parchi bellissimi, è perché i parchi sono il miglior dispositivo di valorizzazione immobiliare che hanno a disposizione e per massimizzare il profitto è opportuno disporre il centro della propria area. Pubblici sì, ma disegnati in modo che a goderne siano soprattutto gli abitanti dei nuovi edifici, come se fossero il cortile di casa. Generosamente aperto al pubblico, ma molto ben sorvegliato. Il parco di City Life, per esempio, è una mezzaluna di pratone attrezzato, stretta tra i tre grattacieli di Generali, Allianz e PVC, e le case di extralusso che li circondano. Il parco, progettato per lo scalo di Porta Romana, è circondato dalla Fondazione Prada Sud, gli studentati di Lussia a nord e nord-ovest e gli enormi volumi di terziari a est. Il siero terapico, progettato da Michael Desvain, è nascosto dagli abitanti della Naviglia e gli studenti della Naba da una cortina di palazzone. Idem per l'altro parco a venire di Desvain, 6 Milano, all'interno del glorificato progetto Residenze Uffici di Cucinella a sud di Bisceglie, così come per quello di Cascino a Merlata, vicino all'area Ex Expo. Ma il miglior esempio del parco, inteso come un asset immobiliare, è BAM, acronimo di Biblioteca degli Alberi Milano, il gioiello di Porta Nuova, posto tra la piazza Gaia Olenti, il bosco verticale e le torri di Via Gioia. La sua dimensione è modesta, 9 ettari ufficiali, 6 o 7 escludendo aiole remote e filiderma inutilizzabili, ma il design dell'architetto olandese Petra Labless è curatissimo, un intreccio di attraversamenti e segni grafici coloratissimi, pensato per essere visto e fotografato dall'alto delle torri. L'esperienza percettiva di chi lo attraversa a livello del terreno è gradevole, ma molto più povera visivamente e soprattutto nelle dimensioni. Lo spazio fruibile per giocare, sostare o passeggiare, tolto le aiole recintate dei fiori di campo, le solite graminaci che fanno terzo paesaggio, le grate sopra i parcheggi, i locali tecnici, gli spazi affittati e riservati ai venti, si riduce a poche centinaia di metri quadrati. Come tutte le risorse scarse, questo spazio libero è oggetto di contesa cerima tra gli abitanti del radiacente quartiere Isola e turisti che si fanno i selfie, tre ragazzini che tirano pallonate, i lettori e le coppie atteggi anziani e soprattutto un ipertrofico servizio di sorveglianza privata allontana tutte le persone non grate, ragazzini di periferia, homeless, freaks in generale. Bam non è un vero spazio pubblico, è uno spazio ex pubblico dato in gestione alla fondazione Catella, cioè allo stesso attore che ha sviluppato il progetto Porta Nuova e che continua a gestirlo e a densificarlo di nuovi edifici. Manfredi Catella stende tappetini di prato fresco ogni nuova stagione, ma in cambio usa il parchetto come vetrina per promuovere il suo impero. Bam è uno spazio di comunicazione e marketing e in quanto tale deve essere sicuro, decoroso e al tempo stesso animato. Nel senso che proprio ci sono gli animatori. Come nella tradizione dei parchi privatizzati new yorkesi, c'è un direttore, Francesca Colombo, che stila un fitto programma culturale mese per mese, fatto di corsi di ginnastica sponsorizzati Nike, alternati a Tai Chi, installazioni di design commerciale, spiagge urbane a pagamento e concerti alternati a DJ7, lezioni di botanica e agricoltura da balcone, veicoli di messaggi positivi in armonia con la natura. «Vogliamo dare vita a un bellissimo luogo pubblico tramite esperienze civiche e culturali aperte a tutte», afferma Calli Russell Catella, direttrice generale della Fondazione in un'intervista portata sul sito BAM. «Un luogo che rappresenta i comunichi valori profondi come l'inclusività, la sostenibilità e il rispetto del prossimo, anche se diverso da te». Anche qui, nel parco simbolo del decoro urbano, nello spazio pubblico dove la caccia alle baby gang spinge le forze dell'ordine verso forme di repressione violente, si proclama ossessivamente l'impegno all'inclusività e al rispetto della diversità. L'urbanistica del turnover Vale la pena interrogarsi ancora una volta sul significato di queste parole. Chi si vuole includere? Quali diversi si dovrebbero rispettare? Come nei musei, negli altri luoghi culturali innovativi, una categoria a cui BAM pretende di appartenere, lo scopo è chiaramente quello di attirare pubblici il più possibile giovani, ma non solo, e cool, uniti dai soliti generici cosmopoliti valori progressisti come la sostenibilità ambientale e la tutela dei diritti LGBTQ1 e dalle minoranze. Più che di diversità, si parla dunque ancora di diversity, di quell'esteticismo Milton Pot che concentra le energie politiche in un impegno civico ed etico totalmente sconnesso dalla questione della classe ed è con buona approssimazione quel genere di folla che si ha più probabilità di incrociare passando da BAM. Una folla del tutto somigliante a quella dei rendering dei progetti di architettura. Gente rilassata, ottimista, ben vestita, pronta a passare da Milano a Londra o a Barcellona. La cosa più interessante è che questa specie, un po' surreale di umani, apparentemente liberi dalle passioni triste e dalle ansie materiali dei comuni mortali, spensierati ma collaborativi e pronti a ripulire le scritte sui muri o i segni dell'incuria, non rappresenta solamente il pubblico ideale dei musei o il prototipo del fruttore dei parchi più gettonati, ma anche il migliore modello di cittadino e di elettore per la classe dirigente, i politici e gli amministratori di Milano. Le città di successo hanno una capacità impressionante di rigenerare continuamente i propri cittadini, afferma Pierfrancesco Maran, giovanissimo assessore ai trasporti nella giunta Pisapia, poi l'urbanistica nella prima giunta sana e alla casa nella seconda. Osservare i numeri è utile per comprendere la dimensione del fenomeno. Milano è passato in un decennio, con l'intercorso tra il 2008 e il 2018, da 1.300.000 abitanti a 1.400.000. Intuitivamente c'è un aumento di 100.000 persone, ma è molto più interessante analizzare i dati anagrafici sul cambio di residenza che dimostrano un turnover molto più potente. 500.000 persone si sono trasferite a Milano, mentre 400.000 si sono spostate altrove. Numeri che rendono l'idea di un fermento, di una non sedientarietà, di un continuo rimescolamento della città che in un decennio ha cambiato circa il 40% dei suoi residenti ufficiali. E se considerassimo coloro che vivono stabilmente a Milano senza formalizzare la residenza, probabilmente saremmo oltre la metà. L'entusiasmo di Maran si articola in una serie di considerazione. Questi abitanti di short term, oltre a rassomigliare a quelli di Parigi, Berlino, New York e altre capitali globali, hanno il pregio di non possedere una memoria a lungo termine della città e quindi non tendono di conservarla. Non mirano a restarci per sempre e quindi sono meno preoccupati dalle conseguenze delle azioni politiche. In buona sostanza corrispondono alla classe creativa di Florida e dunque costituiscono lo zoccolo duro dei consumatori che riempiono i deore e affollano gli appuntamenti culturali dalle week. Però sono anche iperconnessi, buoni comunicatori, prodighi di posto di social, promotori spontanei della buona immagine della città in Italia e all'estero. Per Maran i cittadini a breve termine, una razza di nomadi agiati, sono l'arma segreta per neutralizzare il peso politico almeno a livello locale di quelli che con un tono di impercettibile disprezzo chiamano attivi o abitanti storici. Questi vengono descritti come strutturalmente conservatori legati al valore dell'automobile, nostalgici della storia dei luoghi e persino nei confronti della memoria di Indro Montanelli, in buona sostanza di destra. Milano, che negli anni 90 aveva avuto un'importante svolta a destra dopo Tangentopoli, sta vivendo un cambiamento politico che potremmo definire strutturale. È dal 2011, quindi da oltre dieci anni, che in qualunque tornata elettorale locale o nazionale il centrosinistro è maggioranza. E credo che questo dato sia dovuto non tanto al cambio di posizione politica dei nativi milanesi, ma dal fatto che larga parte dei nuovi arrivati ha valori progressisti. Attribuire ai nativi tratti di sedientarietà, tradizionalismo, risentimento serve a screditare in parte le loro istanze conflittuali. Se gli abitanti delle case popolari protestano per il degrado dei quartieri in cui vivono, è facile dipingere come la causa del proprio male. Chi lotta contro l'ennesimo quartiere di lusso è dipinto come un nimby, mentre chi non accetta di buon grado di spostarsi in qualche comune limitrofo per fare posto a nuovi cittadini più ricchi e Smart si sta attaccando a un'autenticità fasulla che non ha mai esistito. L'obiettivo di questa sottile campagna di denigrazione è proprio quello di umiliare loro e le loro legittime rimostranze fino al punto di convincere di essere in difetto, di essere in qualche modo cittadini manchevoli e conseguentemente disloggiare. Dividere la popolazione urbana in stanziali e nomadi offre l'opportunità dal punto di vista urbanistico di spacciare la propria idea di trasformazione come l'unica forma di cambiamento possibile e di ridurre qualsiasi desiderio di una città diversa o meno diseguare a una triste espressione di sentimenti reazionari. In un terribile circolo vizioso la politica della rigenerazione urbana neoliberista poggia sulla rigenerazione continua degli abitanti che a sua volta rende la città più attrattiva per gli investimenti che consentono di rigenerare le aree dismesse attrendo così nuovi nomadi sempre più cool che si possono anche chiamare expat o turisti venti che prendono il posto dei nativi. Le cause e gli effetti si confondono trasfigurano gli uni negli altri ma servono un unico principio l'aumento della rendita fattore di concentrazione della ricchezza che a sua volta innesca una dinamica certa il disagio e l'espulsione delle fasce deboli della popolazione si tratta di un processo di selezione darwiniano fondato sul puro censo al contrario di quanto ci viene continuamente illustrato i dispositivi fondamentali della giustizia spaziale sono tutti incompatibili con l'incremento della rendita non esiste alcuna logica win-win in questo campo attuare politiche attrattive significa perciò ostacolare le misure che potrebbero contribuire a calmirare dei prezzi dell'abitazione come le tasse sull'affitto e sugli immobili vuoti le leggi che limitano le piattaforme di affitti brevi i finanziamenti per l'edilizia pubblica e per la sua adeguata manutenzione le leggi di tutela dei beni culturali dei centri storici e del territorio e quelle contro il consumo di suolo la pianificazione pubblica in generale l'urbanistica milanese si è articolata così in tre grandi direzioni i grandi progetti di trasformazione urbana pensate alla scala del territorio comunale e persino della città metropolitana che sulla scena di Porta Nuova e City Life proliferano dagli ex scali ferroviari a Mind a Cascina Merlata Ro ex Area Expo a San Siro a Bisceglie fino a Rogoredo e Porta Vittoria costituiscono una parte non negoziabile del gioco sottratta a qualsiasi forma di democrazia reale oggetto di una comunicazione al tempo stesso spettacolare e prudentissima lontana da qualsiasi verifica e protetta da segreti inviolabili come tutte le operazioni di alta finanza dominate da attori internazionali nel gergo della competizione urbana globale si chiamano i grandi attrattori a una scala intermedia si situa l'urbanistica dei quartieri una forma di rigenerazione più capillare fondamentale a livello comunicativo per bilanciare la violenza delle grandi operazioni dall'alto simulando uno sviluppo più partecipato attento alle comunità a misura d'uomo qui si addensano i progetti di housing sociale governati dalle grandi cooperative e dalle fondazioni bancarie e qui atterrano i fondi dei progetti europei di coesione sociale come C40 Reinventing Cities naturalmente questo è il terreno del marketing puro dove gli attori sociali e culturali sono chiamati a fare la loro parte per aggregare i pubblici più eterogenei e confezionarli come comunità che però assomigliano più alle communities dei social che a relazione di vicinato questo è il regno delle social street dalle città dei 15 minuti rappresentata da volenterosi cittadini in biciclette monopattino pronti a fare festa nel co-housing a riciclare con coscienza a trangugiare poche bio come se non ci fosse un domani e dare una ripulita alle scritte volgari sui muri non senza avere prima ammirato invece il murale sedificante del Pride ispirato a San Francisco e firmato Absolute Vodka si celebrano quartieri dalle identità di plastica come Nolo Isola Sopra animati dagli short term citizens dove la sostituzione è veloce e feroce il metro quadro esplode e a 15 minuti di distanza non travi nient'altro che bar ristoranti showroom e uffici di lusso ma non è possibile neanche fare un certificato a spedire un pacco men che meno una spesa quartieri è una parola che serve a cancellarne due centro e periferia ponendo l'enfasi sul riconoscimento di queste comunità fittizie dando una visibilità effimera ed edulcorata a porzioni di territorio virtualmente non gerarchizzate si tenta di negare la percezione della lontananza dell'ingiustizia e delle disuguaglianze che bruciano la terza dimensione è quella dello spazio pubblico monopolizzata oltre che dai nuovi parchi diversamente pubblici dall'urbanistica tattica dalle cosiddette piazze aperte un progetto partito nel 2018 insieme ad Amat agenzia mobilità ambiente territorio e alla Bloomberg Associates una creazione filantrofica dal miliardario ex sindaco di New York Michael Bloomberg nato allo scopo di aiutare le città a sviluppare best practice a costruire consenso a promuovere buone relazioni il programma individua delle piazze o slarghi in ospitali occupati da parcheggio in croci il progetto è una trasformazione temporanea a bassissimo costo per liberarli dalle auto e renderli fruibili dai pedoni e se l'esperimento funziona nella piazza si rivitalizza prende forma la sistemazione definitiva di per sé si tratta di un progetto intelligente più che dignitoso si sottrae lo spazio pubblico al dominio dell'auto segnalando la riconquista con delle strisce colorate ripinte sull'asfalto qualche panchina e vaso e dei tavoli da ping pong soprattutto grazie a questa iniziativa si è sviluppato grazie all'impegno del responsabile del progetto Demetrio Scoppelliti un metodo procedurale veloce per coordinare dipartimenti separati e scarsamente comunicanti all'interno dell'amministrazione come l'aereo urbano la sicurezza stradale la manutenzione del verde mostrando come sia possibile rovesciare il luogo comune che identifica la burocrazia con l'inefficienza e il rallentamento delle iniziative di miglioramento e umanizzazione della città vissuta e invece quando gli uffici della pubblica amministrazione collaborano e scambiano informazioni supportate dalla volontà politica diventa possibile realizzare cose che non sarebbero pensabili per dei privati nell'interesse pubblico tuttavia l'aspetto estragnante di questa operazione è che non viene trattata come un'ordinaria civile procedura di manutenzione urbana di trasformazione alla piccola scala delle stade ma è utilizzata come uno dei principali veicoli di propaganda della presunta vocazione partecipativa del comune periodiche conferenze stampa organizzate in stile da convention repubblicana annunciano i cittadini ma soprattutto la stampa che in tre anni e mezzo sono state liberate ben 38 piazze che sono disponibili 22.000 metri quadri di nuovo spazio pedonale che sono state installate 250 panchine e 32 tavoli da ping pong che 200 associazioni e 800 abitanti hanno partecipato alle iniziative pubbliche per localizzare nuovi interventi numeri che descrivono un processo virtuoso ma di dimensioni insignificanti se paragonato alla quantità di metri cubi edificati in questi anni nell'ordine di milioni di metri quadrati di strada pubblica occupati dalle auto a Milano intorno alla decina di milioni di metri quadrati di verde esistente 18 milioni o se si comparano gli 800 cittadini partecipanti alla popolazione complessiva 1.400.000 o anche il numero di associazioni partecipanti 200 che vuol dire che hanno partecipato 4 cittadini per associazione il numero trionfale poi è riferito al fatto che un cittadino su due ha accesso a una di queste piazzette colorate nel giro dei 15 minuti un dato particolarmente ridicolo visto che per fortuna a Milano la quasi totalità dei cittadini può raggiungere nello stesso arco temporale uno dei suoi 82 parchi grandi anche decine di etteri o uno dei suoi 323 giardini e almeno in questo sono abbandaggiati gli abitanti dalle periferie sono proprio queste contraddizioni oggettive a spiegare l'enfasi mediatica come dichiara apertamente la missione della Bloomberg Associates l'obiettivo primario di piazza aperte è la produzione di consenso o meglio la neutralizzazione del conflitto nei confronti dell'aumento della rendita per ottenere la partecipazione della disuguaglianza prodotta dalle operazioni miliardarie che a dispetto dell'elefantiaco impatto sul territorio concentra una ricchezza prodotta nelle mani di pochissimi si esaspera la comunicazione relativa a micro interventi low cost di normale cura della città mettendoli sullo stesso livello ogni nuova piazzetta zebrata insieme a ogni più piccolo tratto di nuova pista ciclabile ogni nuovo gruppetto di alberelli piantato da forestami ogni spazietto ibrido viene inaugurato in pompa magna con bambini ciclisti giovani rapper rappresentanti di associazioni abitanti più possibile diverse affinché i pochi metri quadri di spazio pubblico riconquistati dal basso appaiono belli ampi e desiderabili quanto le centinaia di migliaia di spazio pubblico che vengono sottratti dall'alto è come se una voce dicesse le vostre noccioline sono buone quanto il nostro sushi stellato avete visto lo dicono i giornali le tv eppure gli influencer l'avete postato pure voi come si è detto questa forma di compensazione dell'ingiustizia spaziale sotto forma di riconoscimento mediatico presunto allargamento delle retti relazionali funziona in molti ambienti non solo nei circuiti strettamente politici e della pubblicità non solo tra i creativi e i comunicatori ma persino tra gli attivisti e gli operatori sociali tra gli studenti e i cooperanti la visibilità è diventata molto appagante tanto da essere spesso accettata come moneta di scambio il problema però è che restare confinati nell'ombra dell'invisibilità sono necessariamente in molti la maggior parte della popolazione urbana che per lo più vive ai margini della città ed è più resti a spostarsi e che le 38 piazze aperte le decine di progetti nei quartieri le tante reti dalle associazioni non riescono neppure a lambire la loro assenza diventa sempre più visibile in un contesto molto specifico le mappe del voto in occasione delle elezioni politiche del 2018 le mappe certificavano una situazione ormai classica in tutti i paesi Milano nel suo complesso dava la vittoria al centro-sinistra ma analizzando il voto strada per strada la città era una ciambellona di destra con un buco centrale progressista una faglia netta tra centro-periferia tra ceti agiati e meno agiati comuna New York Parigi come moltissime altre città italiane le elezioni del sindaco nel 2021 mostravano uno scenario apparentemente diverso più omogeneamente di centro-sinistra con solo delle aree molto definite a destra come il quadrilatero di San Siro e altri complessi di edilizia pubblica Corvetto, Comasina Quartogiaro, Grottosoglio Forza Amarte ma se invece di guardare la preferenza e si guarda la percentuale dei votanti la ciambellona emerge con maggiore chiarezza di prima ed è fatta stavolta di astensionismo il macrodato è spaventoso raggiunge la percentuale totale del 52,3% di astenuti in tutta la città quasi 7% in più rispetto alle precedenti comunali e il 20% in più rispetto al 2011 in cui fu eletto Pisapia ma nell'area più interna centro e periferia dominano estesissime zone in cui l'astensionismo ha toccato punte dal 70-80% le aree che hanno riconfermato Sala sono quelle intermedie dei Navigli Porta Romana Porta Venezia Città Studi Isola Sarpi Ex Fiera Tortona le più ricche di Movida le più dense di Tavolini Location per Affitti Breve e Showroom Gallerie Fighette le più beneficate dalla rendita in altre parole sono quelle della Creative Class dei City Hazel o Short Term Citizens non a caso amati da Maran dai consumatori di città di città di città di città di città